Buongiorno a tutti, iniziamo subito la conferenza dando la parola a MilanTV. Sul piano dell'evoluzione, della crescita tecnico, tattico, sportivo, umano anche. Adesso che siamo arrivati al punto di doverlo concretizzare, che sensazioni prova il fascino della partita, lo sviluppo di tutto quello che avete fatto e di sacrifici che avete fatto che c'è dentro la parola di domani? Beh, sicuramente l'emozione, l'emozione di cominciare la nuova stagione, l'emozione giustamente come è sottolineato di provare a finire e a terminare e a concretizzare un percorso che abbiamo costruito l'anno scorso. È chiaro che i preliminari è solamente l'inizio ed è anche chiaro, abbiamo bene chiaro in testa dove vogliamo arrivare, ai gironi. Però adesso dobbiamo pensare al primo impegno, alla partita di domani, perché sicuramente tre settimane di preparazione non sono tantissime, però abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per farci trovare pronti per la partita di domani. Quindi adesso solamente concentrazione sui 90 minuti di domani sera. Ecco mister, dall'esterno si dà quasi per scontato che il Milan debba passare il turno. Dall'interno invece immagino che il Milan conosca le insidie di questa partita, lo Shamrock, nove partite vinte su 11 in campionato, squadra rodata, squadra britannica che corre, che ha anche dei singoli interessanti. Insomma, gestire queste due spinte in una gara in cui forse teoricamente è più il Milan ad avere qualcosa da perdere rispetto allo Shamrock, come si fa? In che atteggiamento si traduce anche da parte sua? Ma nello sport, ma anche nella vita, se dai per scontato qualcosa prima di metterti alla prova, sicuramente parti con l'atteggiamento sbagliato. Non sarà sicuramente il nostro approccio. Noi conosciamo benissimo le difficoltà della prima partita, per tanti motivi. Affrontiamo un'avversario che gioca un buon calcio, un calcio propositivo, un calcio moderno, fatto di molto movimento senza palla, di qualche giocatore di qualità nel reparto offensivo, di una squadra che sicuramente dal punto di vista fisico è impossibile che non sia così, starà meglio di noi, perché arriva da 13-14 partite ufficiali, per noi la prima partita ufficiale. Ma è altresì vero che non dobbiamo pensare solamente alle difficoltà che incontreremo, ma alla grande opportunità che abbiamo di giocare la mina, di cominciare bene la stagione. Ripeto che ci siamo preparati bene, abbiamo purtroppo qualche assenza importante dovuta comunque a delle situazioni della passata stagione che non siamo riusciti a recuperare. Però quelli che partiranno oggi sono pronti e preparati per affrontare questa partita difficile. Ecco mister, è finito lo scorso campionato un mese e mezzo fa, sembrano due vasi comunicanti queste stagioni e naturalmente la squadra che lei conosce, che lei ha avuto tutta la scorsa stagione, ha lottato tanto per arrivare ai preliminari di Europa League. Da questo punto di vista, lei riparte da lì, cioè riparte dall'assetto di squadra più collaudato, dai singoli che da tanto tempo fanno parte di questa squadra, almeno all'inizio, è questo il suo sentiment, il suo feeling? L'importante è ripartire dai nostri principi, dai nostri concetti di giochi, dalla nostra identità. Sappiamo quello che vogliamo fare dentro la partita, come stare dentro la partita, sappiamo come dobbiamo costruire, come difendere. Poi dopo da quelli che saranno gli undici che partiranno, poi dipenderà dalla condizione dei giocatori. Credo che comunque, anche se Tonali, Diaz e Tata Rusano sono andati da poco tempo con noi, credo che abbiano già chiaro quello che vogliamo fare e quindi poi dopo le scelte saranno fatte soprattutto in base alla condizione fisica dei miei giocatori. Prima leggevo i dati Opta, non c'è mai stata una sosta così breve del Milan, 47 giorni da un campionato a un altro. Le chiedo, ce n'era ancora benzina nelle gambe dei giocatori? Il Milan ha chiuso in maniera forte dal punto di vista fisico. Come le hai ritrovati? Ce n'era benzina ancora o è ripartito da zero? Avevamo bisogno, avevano bisogno i giocatori di staccare, questo sicuramente. Quindi abbiamo preferito concederli qualche giorno in più di riposo, dopo il lungo sforzo che hanno fatto nella passata stagione. Molto dal punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista mentale, perché abbiamo fatto un percorso di risultati, di sconti diretti molto importanti e con partite molto ravvicinate, quindi hanno richiesto un dispendio di energia veramente elevato. Le ho trovate subito molto bene dal punto di vista mentale e secondo me è la cosa che fa la differenza. Quando stai bene mentalmente, quando sei disponibile a lavorare, quando stai bene dove lavori, sei più portato al sacrificio, al sudore. Quindi le ho ritrovati molto bene e devo dire onestamente che in queste tre settimane tutti gli allenamenti che abbiamo affrontato, tutte le amiche ore che abbiamo affrontato, anche con i nostri errori, ma le abbiamo affrontate con lo spirito giusto. Questa è la cosa importante e questa è la situazione sulla quale dobbiamo assolutamente insistere. Siamo a quasi 300 giorni, anzi più di 300 giorni della sua dinastia qui al Milan. C'è un altro numero, che sono 644 giorni di assenza del Milan dall'Europa, da quel famoso Olympiacos Milan ad Atene. In questi 300 giorni ha percepito quella frase che tutti magari danno per scontata, che è davvero l'Europa la casa del Milan. Io sento e vedo i tifosi che ogni qualvolta si parla anche di un preliminare di Europa League, sembra siano anche più eccitati rispetto a tanti altri eventi. Cioè l'Europa è davvero, ha un significato diverso per il mondo Milan. Lo è sempre stato l'Europa, l'habitat naturale per questa società così gloriosa. E quindi è evidente che per noi questa stagione l'obiettivo di riportare in Europa il Milan è l'obiettivo principale. Che poi ci riusciamo, speriamo, attraverso l'Europa League o attraverso le posizioni che riusciremo a conquistare in campionato. Questo deve essere il nostro obiettivo. E siamo pronti, siamo pronti, consapevoli delle difficoltà, consapevoli perché abbiamo visto i nostri avversari, stanno bene, una squadra fisica, una squadra intensa. Però abbiamo le nostre caratteristiche, il nostro modo di stare in campo. Dovremmo approcciare molto bene la gara e dovremmo stare attenti per 95 minuti. L'ultimo di questo blocco, sui singoli, come sta Ibra? Avevamo letto pochi giorni fa che aveva un piccolo problemino, ma da quello che abbiamo visto in questi giorni sembra essere superato. Come sta anche psicologicamente dopo questa lunga trattativa che l'ha riportato poi a lei? Lui ha fatto una bella intervista, ha detto anche per merito di Pioli. E come ha trovato questo ragazzino di vent'anni, di cui parla tutta l'Italia, che si è trovato dal Brescia, dove giocava già in nazionale, al Milan, realizzando Paolo Maldini? L'altro giorno hanno detto un-duemila, ma ha realizzato il suo sogno. Parlo di Tonali. Beh, su Zatana aveva preferito che avesse potuto giocarlo in qualche spezione delle ultime due amichevoli. Questo senz'altro sì, però ha recuperato completamente. Sta bene fisicamente, sta molto bene mentalmente. Molto determinato, positivo e partecipe come sempre. Quindi l'ho ritrovato come lui. Competitivo al massimo, disponibile al massimo. Quindi un punto di riferimento per la squadra sicuramente. Per quanto riguarda Tonali, è un ragazzo giovane, ma maturo e pronto. Questo sicuramente sì. Poi è chiaro che è appena arrivato, ma ha già fatto intravedere le sue caratteristiche, la sua volontà, è felice di essere qua. E ripeto, queste sono sensazioni e sentimenti molto importanti. Mister, noi abbiamo avuto con lei a fine agosto la prima conferenza stampa stagionale dopo il raduno. Erano i giorni in cui era imminente, poi è arrivato due giorni dopo, l'annuncio della conferma di Ibra al Milan. In questo suo secondo incontro stampa, oltre a Ibra, è arrivato Tonali, è arrivato Brahim Diaz, è arrivato Tataruzanu. Ecco, il mercato si sta sviluppando come lei si aspettava, come lei anche in fondo si augurava, con i tempi particolari di questo primo mercato post-lockdown. Io credo che il nostro mercato sia cominciato nettamente in anticeo, perché comunque la società abbia dimostrato la volontà di dare continuità a quello che abbiamo cominciato l'anno scorso con l'acquisizione completa di Rebic, con il rinnovo di Kier, con il rinnovo di Ibra e poi dopo chiaramente con gli innesti di Tonali, di Diaz, di Tataruzanu. Quindi questi sono segnali molto importanti. Io sono molto soddisfatto dei giocatori che ho a disposizione. È altrettanto vero che il mercato è ancora lungo, perché però in questo momento io assolutamente e la squadra non possiamo fare altro e dobbiamo solamente pensare alla partita di domani, ai prossimi impegni. Speriamo di avere un inizio stagione molto competitivo, con tante partite, cercando di vincere tutti i preliminari. Quindi concentriamoci su questi e poi arriveremo alla prima sosta del campionato il 4 ottobre e lì sarà il momento di tirare le somme anche per quanto riguarda il mercato. Ecco mister, chiaro, partita per partita, sacrosanto, non ci piove. Da Dublino in poi però, e augurandoci naturalmente che possa esserci un poi rispetto a Dublino, con tutto rispetto per lo Shamrock, tutti sappiamo che con l'Europa League è una stagione, senza Europa League è una stagione, come parco giocatori, come numero di partite. Insomma, lei è consapevole, pur pensando solo ed esclusivamente al campo e partita per partita, che attorno al cammino in Europa League ci sono degli snodi importanti per programmare a 360 gradi la stagione, numero della rosa, peso della rosa, mercato e quant'altro. Sì, ma sicuramente è così. Sicuramente potrà essere una stagione con l'Europa League in un senso, senza Europa League in un altro, questo assolutamente sì, perché gli impegni saranno molteplici se riusciremo a conquistare i giorni d'Europa League, però è un discorso che in questo momento vale sino a un certo punto, perché noi dobbiamo passare tre turni preliminari per arrivare ai giorni e adesso dobbiamo solamente passare la partita di domani e pensare alla partita di domani ai primi 95 minuti. c'è anche l'eventualità comunque di andare oltre 90 minuti, quindi pensiamo a questa partita, affrontiamola col pillo giusto, affrontiamola con la personalità che serve per giocare in Europa, aspettiamoci ritmo, aspettiamoci difficoltà, dovremo giocare con molta lucidità, anche quando magari andremo in fatica, soprattutto con molta qualità tecnica, perché credo che questa squadra abbia delle qualità importanti che domani dobbiamo mettere sul campo.